ciao a tutti ragazzi siamo di nuovo qui su scuola del festival come se facessi video di altri giochi però vabbè e niente che c'è di bello oggi a parte che ho cominciato nell'evento di nico e io ancora non ci ho giocato ed è già iniziato da due ore e ho 150 lp ma va bene il punto è che volevo mostrarvi una cosa che finalmente dopo un anno e mezzo di gioco è un anno di tiraggio serio sono sono riuscito a fare ovvero finalmente sono riuscito a completare i miei tre team principali con delle carte tutte a livello 80 già come potete vedere sono tutte carte evento chiaramente c'è questa che tipo il quarto evento in assoluto mamma mia che c'ho feca meno male che che la cambierò con nico praticamente l'ho concluso in realtà con la scorsa kotori però mi ero dimenticato di fare il video quindi lo faccio oggi quasi come sempre vedete ho due pana perché una se avete visto lo scouting di lucca me l'ha pescata cia cia l'altra e qua c'ho due uni e questa kotori appunto è stata l'ultima che è andata a completare il team e finalmente ho tre fottutissimi team tutte a livello 80 sono stracontento non non c'ho nient'altro da aggiungere in questo video era semplicemente per farvi vedere con orgoglio quello che sono riuscito a creare dopo un anno di tiraggio compulsivo in ogni evento a partire da quello di umi di dicembre no anzi avevo ho saltato quello di nico lo score match però gli altri le ho idolizzate tutte ciao bellissimi statemi bene